Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video, il primo del 2021 ed il primo con un nuovo microfono finalmente. Ho deciso di realizzare una nuova top 5, stavolta dedicata esclusivamente agli orologi al quarzo. Prima di iniziare vi ricordo come sempre di lasciare un mi piace ed iscrivervi al canale. In questo tipo di orologi la misura dello scorrere del tempo è regolata grazie alle oscillazioni di un cristallo di quarzo, opportunamente tagliato a forma di diapason, rendendo l'orologio estremamente preciso. Pur non essendo particolarmente amati dagli appassionati, sono indubbiamente comodi, precisi e sempre pronti all'utilizzo, questo è innegabile. Come primo orologio ho inserito un Casio della collezione Edifice. Quando pensiamo a Casio immaginiamo solitamente un orologio digitale, ma la casa nipponica ha nel suo ampio catalogo anche tantissimi orologi analogici. Questa referenza mi ha colpito molto per le sue caratteristiche e la sua versatilità. 100 metri di resistenza all'acqua, vetro zaffero, indici e sfere luminescenti e un design piuttosto spigoloso anni 70, davvero accattivante, che sta tornando di moda. Il movimento è probabilmente un miota e con un prezzo di circa 88 euro non si può davvero chiedere di più. In questa top 5 come poteva mancare chi l'orologio al quarzo nel lontano 1969 l'ha inventato? Stiamo parlando di Seiko, precisamente di un modello alimentato da un movimento a carica solare. Sotto il quadrante infatti troviamo dei pannelli solari che se stimolati da una fonte luminosa, sia essa artificiale che naturale, caricherà l'accumulatore e non avremo più il bisogno di sostituire la batteria ogni 4-5 anni. Questo Seiko mi è piaciuto molto, ricorda un po' il Cartier Tank, senza risultare un omaggio in tutto e per tutto. Il prezzo su Amazon è di circa 180 euro, davvero eccezionale se si vuole un orologio elegante senza spendere troppo. Rimanendo in ambito energia solare, l'orologio subacqueo da me scelto è il Citizen ProMaster, alimentato dalla tecnologia Citizen EcoDrive. Il funzionamento è simile a quello di Seiko. Una volta completamente carico, l'orologio assicura una durata almeno di 6 mesi, anche rimanendo al buio completo. Questa referenza ha un diametro importante di 44 mm, che sottolinea il carattere sportivo del segnatempo, e una resistenza all'acqua di 200 metri, certificata ISO. Ha un quadrante di un bel verde soleil, sgargiante e adatto allo spirito estivo. Il prezzo di listino è di 258 euro, a mio avviso onesti, vista l'enorme qualità che si di Zenoffre. Abbandoniamo ora il Giappone, la patria indiscussa della tecnologia al quarzo, e dirigiamoci in Europa. Il modello stile vintage scelto da me è un Philip Watch, un orologio Swiss made, ma dal design italiano. Classico, elegante e senza tempo, ha un diametro di 41 mm, una misura molto contemporanea direi. Lancette Dauphin, ben appuntite, numeri romani ad ore 6 e 12 e piccoli secondi. Il cuore di questo segnatempo è un movimento svizzero al quarzo, un Ronda 60-04, un calibro davvero di qualità. Piazzandosi a 175 euro è un buon segnatempo da tenere in considerazione per chi vuole un orologio elegante, di qualità, di bell'aspetto, puntando sulla precisione del quarzo. Per ultimo, ho scelto un orologio di una Maison, che non a caso ha un diapason come simbolo, il Bulova, ed in particolare il Lunar Pilot. Entrato a far parte della mia collezione da poco, e di cui arriverà prossimamente una recensione. Questo modello è diventato famoso per essere stato al polso dell'astronauta Dave Scott durante la missione Apollo 11 nel 1971. Bulova qualche anno fa decise di realizzarne la riedizione, riscuotendo un notevole successo, e facendo breccia anche nel cuore degli appassionati dell'orologeria meccanica. Infatti, se il suo antenato era meccanico, questa versione è al quarzo. Bulova stessa ha ideato questo movimento definito Precisionist, che vibra ad una frequenza di 262 kHz, ben 8 volte di più di un normale quarzo, assicurando una precisione sbalorditiva, di più o meno 10 secondi all'anno. Bulova nel suo campo continua ad innovare, nel passato con il movimento Accutron, ed ora con i movimenti Precisionist, realizzati anche per i suoi cronografi col primo movimento curvo del mondo, rimanendo fedele al suo spirito di innovazione. Trattandosi di un tool watch, come viene definito, ossia un orologio strumento, il diametro è piuttosto grande, 45 mm, quasi 3 mm in più del suo antenato. La cassa è interamente satinata, mi ricordo il suolo lunare, ed è sovrastato da un vetro zaffero sporgente. Il quadrante presenta una lavorazione eccellente, su più livelli, che ci regala una bella tridimensionalità. Il movimento, oltre all'enorme precisione, garantisce anche un'ottima fluidità della sfera dei secondi crono, che si muove come quella di un meccanico, e quella dei piccoli secondi invece va a scatti di mezzo secondo. Il prezzo di listino è di 499€, ma su internet si riesce a trovare anche ad un prezzo inferiore, a mio avviso giustificato per la storia, per la lavorazione e per il movimento incassato. Per la recensione completa del Lunar Pilot vi invito a lasciare un mi piace ed un commento, e provvederò a farla uscire al più presto. Anche per oggi è tutto, spero che questa nuova top 5 vi sia piaciuta, fatemelo sapere come sempre con un commento ed un mi piace. E noi come sempre ci vediamo al prossimo video. A presto da NeonTube. A presto!